sì oggi una inquadratura totalmente diversa a quelle precedenti però oggi abbiamo la festa pure meglio la memoria della beata vergine madre della chiesa ecco lei che si è messa vicino alla croce ecco lei che ha guardato il suo figlio che stava per morire può darsi che lo guardava da questa posizione con gli occhi rivolti in alto con gli occhi che guardano gli altri occhi sofferenti con grande dolore e guardate noi riusciamo a metterci in questa posizione così strana dove guardiamo qualcuno dal basso in alto e non abbiamo nessuna compassione non abbiamo nessun dolore chissà come ci avremmo comportati noi proprio così mettersi sotto la croce e guardare Gesù proviamo in questo giorno